Formaggio al sapore di muffa, sugo acido, zuppe poco gradite ai bambini, polpette gommose. Questi i report dei genitori. Refezione scolastica fanese per Udc e Progetto Fano non ci siamo per niente. Sarebbe, stando ai parametri del test che nella versione invernale ci ha messo al quinto posto su 50 scuole, carente e necessita di migliorie da compensare a casa. E per questo, presto, i consiglieri di minoranza presenteranno un'interrogazione in consiglio comunale. Quindi questa cosa per i nostri bambini pensiamo che non sia un'alimentazione del tutto corretta, perché dobbiamo invece guardare e sì insegnargli, dargli un'educazione alimentare, quindi che possano mangiare di tutto e abituarsi a tutto, ma non possiamo andare a prendere i bambini nelle scuole affamati o che hanno mangiato solamente pizza e gelato, perché non è assolutamente un'alimentazione corretta. C'è da capire il perché delle tante lamentele recepite dai genitori dopo il cambio del menù estivo e cosa non va. Perché alcuni bambini tornano a casa a digiuni o dopo aver mangiato solo pane e pasta quando c'è, se no devono sorbirsi palline di miglio, couscous due volte alla settimana, insalate di radicchio e mais, niente salumi e formaggi per due volte. Da considerare che le famiglie, stando alle affermazioni dei consiglieri, sostengono il costo della riflessione con la quota che versano, se poi devono integrare a casa, il risultato è che molte famiglie stanno togliendo i figli dal servizio. L'intento, almeno sulla carta dell'ufficio competente, è quello di abituare i bambini a mangiare di tutto, e questo va bene, ma se ciò si tramuta in uno stravolgimento dei principi della nostra, tanto amata e apprezzata dieta mediterranea, imbarba anche alle indicazioni ministeriali che invitano al rispetto della tradizione locale, desta non poche preoccupazioni. Quindi devono essere le famiglie che decidono se è corretta l'alimentazione e decidere se farli mangiare a scuola quando ci sono determinati alimenti e non come è successo poi la scorsa settimana, che è stato cambiato il menù, quindi dei bambini sono rimasti, altri sono usciti perché c'era un menù giornaliero che non era adatto a quelle che erano le loro esigenze, invece poi è stato cambiato l'ultimo minuto senza avvisare le famiglie. Quindi cercheremo più che altro di tutelare le famiglie e soprattutto i bambini. Cioè su una classe di 20 bambini, se la brutta pesca sono previste per averci...